ciao ciao come ti chiami mi chiamo elisabeth tavella da dove vieni vengo da roma in italia dove hai studiato ho studiato a roma alla sapienza la triennale la magistrale e poi ho fatto il dottorato a chicago che cosa insegni o hai insegnato a yusho kago al momento insegno dei corsi di letteratura nel core e ho insegnato anche dei corsi di animal studies di ecocritica e insegno anche i corsi di lingua italiana che cosa fai nel tempo libero nel tempo libero mi piace stare con i miei gatti prendermi cura delle mie piante e fare volontariato con varie associazioni e organizzazioni locali qual è il tuo luogo preferito a chicago diciamo che chicago ogni quartiere ha qualcosa da offrire tra i miei preferiti a piensen con la sua street art logan square e humble park anche un posto incantevole e il tuo ristorante preferito chicago ma tutti i ristoranti vegani della città però in particolare c'è vediamo magiani handlebar e amitabu è un ristorante coreano fantastico quando sei in italia dove ti piace andare è di solito torno sempre a roma dai miei affetti e amici però ecco se posso vado al mare sulle isole e in toscana anche molto spesso perché ti piace insegnare italiano mi piace poter condividere la mia la mia cultura e le sue sfumature ma anche fornire agli studenti gli strumenti critici per per analizzare le complessità della della storia della della lingua italiana un consiglio agli studenti di italiano che iniziano io chicago un consiglio di essere sempre curiosi e di andare oltre oltre gli stereotipi della della cultura italiana e anche di confrontarsi con testi e opere d'arte al di fuori del canone perché c'è ancora molta ricchezza da scoprire e valorizzare grazie mille elisabeth ciao